Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Lei ha detto, se si sa leggere, diciamo, e alcuni di noi lo sanno leggere il calendario della Camera, si comprende che tra decreti che sono in arrivo, tra informative di ministri su emergenze varie, siccità che devono assolutamente avere luogo, è quasi sicuro che non se ne parli di questi due temi che sono attaccati nel calendario, uno dopo l'altro, non solo non se ne parli prima dell'estate, ma andando a finire a dopo la pausa estiva, quando ci sarà una rimodulazione del calendario, perché le condizioni politiche faranno sì che ci sia, ci si avvicinerà alla sessione di bilancio, e infatti noi quello che oggi chiederemo a tutte le forze politiche che in commissione hanno approvato il testo che è arrivato in aula, è di pensare a una settimana ulteriore di lavori per dedicarsi a questi due temi. Cioè lei li vuole far andare in vacanza più avanti? Si può o andare in vacanza più avanti o si può aggiungere semplicemente una giornata ogni settimana al voto, si termina di solito o il mercoledì sera ormai col periodo estivo o il giovedì mattina e si può prevedere una giornata in più. Questo noi lo chiederemo come questione politica che poniamo. Il punto però è un altro. Nel calendario abbiamo, nel calendario, a proposito di priorità, io mi rendo conto, poi ognuno, siccome diciamo no, poi questa è una proposta parlamentare, io l'ho depositata a dicembre del 2019, ha fatto un iter, ha attraversato tre maggioranze e tre governi. Lei parla della cannabis adesso, certo. A differenza dell'Uscola che è arrivato, diciamo, negli ultimi mesi con una decisione, con questa maggioranza, di una parte di questa maggioranza, quella è una proposta parlamentare che è arrivata molto da lontano. Le commissioni hanno lavorato, la commissione giustizia, senza forzature, sono stati recepiti degli emendamenti del centrodestra, rimodulati, cioè non c'è stato, diciamo, uno scontro, uno struzionismo, eccetera. Si è arrivati con un percorso di discussione parlamentare. Nel calendario abbiamo la disciplina del volo da Diporto, gli 800 anni di San Francesco d'Assisi, la PDL sulla valorizzazione del melodramma italiano. Ora io sfido chiunque a dire che queste sono delle priorità, o almeno che siano più priorità. Faccio presente che in Germania... Ce le ripete, ce le ridica, perché ce le dobbiamo ricordare bene. La disciplina del volo, modifiche alla disciplina del volo da Diporto, con tutto il rispetto per i diportisti del volo. Poi? Con gli 800 anni di San Francesco d'Assisi, che meritano una proposta di legge, perché ovviamente ci saranno, immagino, degli stanziamenti dedicati, la valorizzazione del melodramma italiano e altre proposte che hanno una dignità massima. Se il Parlamento e le commissioni hanno deciso di portarle in aula... Hanno diritto anche loro. Ma credo anche questa, perché è un grande tema sociale ed è una discussione alla quale, ad esempio, il governo tedesco sta dedicando un lungo processo di consultazione per arrivare in autunno a un provvedimento di vera e propria legalizzazione della produzione del commercio della cannabis. Non come questa, che è la depenalizzazione delle quattro piante a casa. E quando la prima economia dell'Unione Europea avrà varato quel provvedimento, noi lo subiremo da un punto di vista economico, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista sociale. E quando qualcuno dirà, ma dov'era il nostro Parlamento, mentre in Germania, nonostante la guerra, nonostante la pandemia, si discuteva di un enorme tema sociale, economico, di giustizia, di salute dei cittadini, eravamo a pensare a San Francesco d'Assisi al volo da riporti. Ecco, per carità. Qualcuno lo dirà, io quindi mi porto avanti. Fa bene. Biraghi, secondo lei...